Ben ritrovati, entra nel vivo La campagna elettorale verso il voto del 25 settembre Oggi ospitiamo Massimiliano Marotta Che è candidato capolista con noi moderati Nel collegio Campania 2 di Salerno e Avellino Per la Camera dei Deputati Intanto benvenuto ad Otto Cianna Grazie direttore, grazie Allora partirei da una domanda chiaramente scontata Ci vuole spiegare le motivazioni di questa sua candidatura Che cosa rappresenta soprattutto? Beh allora innanzitutto ci tengo a precisare Una cosa, cioè che nell'attuale schema E sistema ordinamentale politico Non si decide di candidarsi Si viene candidati dopo aver offerto una disponibilità Da questo punto di vista io ovviamente avevo partecipato Alla mia componente politica La disponibilità a correre in questa campagna elettorale Perché ritengo che questo sia un momento In cui non ci si debba risparmiare Da alcun punto di vista Tantomeno quello personale E quindi ho ritenuto di sottopormi Direttamente questa volta E in questa occasione elettorale Al giudizio degli elettori Lo faccio naturalmente nell'area politica Nella quale mi sono sempre ritrovato Che è quella moderata E per la quale oggi cerco di dare il mio contributo Ripeto in maniera diretta Nell'ottica di un rafforzamento di quest'area All'interno della coalizione di centrodestra Senta Marotta Indubbiamente questa è una campagna elettorale difficile Perché giocata in un periodo estivo La gente è distratta anche E soprattutto da altri problemi Problemi soprattutto di carattere economico Si discute tra i temi di questa campagna elettorale Del caro energia Qual è la sua valutazione Insomma come se ne esce Da questa situazione di emergenza Beh diciamo che lei tocca Il cuore del problema Nel senso che in questi giorni Viviamo un momento di crisi Nella crisi Cioè abbiamo una crisi settoriale Che come giustamente indicava lei È una crisi che attiene al profilo energetico E che ovviamente è generata Per lo più dal conflitto bellico in Ucraina Che ormai è patrimonio conoscitivo comune Io credo che da questo punto di vista Le linee direttrici per affrontare questa problematica Siano tre La prima è senz'altro una politica immediata Contingente, emergenziale Per far fronte al tema del caro Bollette Al quale secondo me non si può Non diciamo ricorrere Se non attraverso misure di sostegno E ristoro immediati Ma questa naturalmente non può costituire La soluzione del problema Il problema deve essere risolto a livello strutturale L'Italia come tanti altri paesi Ha un problema di approvvigionamento Di fonti energetiche E quindi questo ci riporta anche al PNRR La mia componente politica All'interno della coalizione Chiede ad esempio con forza Una rinegoziazione del PNRR Che ovviamente è figlio del suo tempo Quindi nato sostanzialmente In occasione dell'emergenza pandemica Oggi però il mutato contesto Impone secondo noi una rinegoziazione Che non vuol dire naturalmente Negare il modello Senza dubbio costituito Da una buona visuale strategica Però è necessario Riallocare finanziariamente Alcune risorse Per poter intervenire sul tema energetico Dal punto di vista strutturale E mi sia consentita anche Una chiosa di carattere personale Cioè in un momento in cui Tutta l'Italia parla dei rigassificatori E quindi delle strutture energetiche Sul se si debbano o non debbano fare Pochi dicono che I rigassificatori in Italia già esistono Il nostro governatore Toti Ospita all'interno di Porto Venere Che era una delle zone più belle della Liguria Un rigassificatore Che il governatore stesso ha autorizzato Per il funzionamento a pieno regime Questo per dire che mentre si dibatte Alcune cose sono in realtà già state fatte E un ultimo profilo sul tema energetico E quello culturale Cioè è necessario anche Che questo problema venga affrontato Da un punto di vista culturale Nell'ottica naturalmente Del risparmio energetico Questo però è ripeto Un aspetto culturale Che è necessario Venga recepito dai cittadini Perché ognuno Nel proprio piccolo Possa fare la sua parte Lei lo dicevamo in apertura È candidato capolista con noi moderati Nel collegio Campania 2 Che comprende due province Salerno e Avellino Quindi un collegio molto vasto Quali sono le priorità Marotta che vuole rappresentare Soprattutto per questo territorio Ma guardi Salerno e Avellino Sono due bellissime città Ma diciamolo molto chiaramente Assolutamente diverse E quindi secondo me Con prospettive diverse E con patrimoni Diciamolo pure Anche questo Con chiarezza diversi Se penso a Salerno Le do quella che è un po' La mia opinione personale Quest'estate Sono rimasto davvero sorpreso Da ondate di turisti Che hanno letteralmente Invaso la nostra città E pensavo Che se questa capacità di appeal Può essere così forte Senza praticamente Nessuna prospettiva E offerta seria Che cosa succederebbe Se noi affrontassimo Seriamente Il problema del turismo A Salerno E cominciassimo a dare Un'offerta turistica seria Con strutture Con un accoglimento Pieno e capace Da parte del turismo Sarebbe secondo me Un'apoteosi Dal punto di vista Ovviamente Dell'incremento Avellino È Una città Caratterizzata Invece da un tessuto Produttivo Anche qui Fortissimo Pensiamo per esempio Al settore Agroalimentare Quindi in questo caso Lì La questione È diversa Sono necessarie Politiche Nazionali Che possano E debbano Favorire In quel caso Ovviamente Il tessuto produttivo Ecco Certamente Si torna al voto Per la prima volta Per le politiche Con la riduzione Del numero Dei parlamentari C'è il pericolo A suo giudizio Che questo territorio Non abbia La necessaria Rappresentanza Io qui ho un'idea Molto chiara Lo sto affermando In questa campagna elettorale Bisogna recuperare Innanzitutto E capire Qual è la funzione Il parlamentare Il parlamentare In seno Al consesso Di cui fa parte È il legislatore Il legislatore Fa leggi Per tutta la collettività Non per questo O quel territorio Quindi da questo punto di vista Non c'è un problema Di rappresentanza Territoriale Se Ripeto Si recupera E si pone Mente A quella che è La funzione Parlamentare Dove può esserci Secondo me Un bullus Di tipo territoriale È che L'assenza Poi Di una figura Di riferimento Territoriale Mette in crisi L'altra funzione Del parlamentare Che è Quella di raccordo Fra il cittadino E le istituzioni Cioè le leggi Vanno fatte Ma vanno anche Spiegate Ai cittadini E quindi Questa funzione Di comunicazione Potrebbe essere Diciamo Compressa Ecco intanto Come è andata Questa campagna Elettorale Lo dicevamo In un periodo Un po' atipico Si è giocato Molto d'estate Quindi Che riscontri Ha avuto Nel rapporto Con gli elettori Soprattutto i cittadini Quali istanze Le hanno sottoposto È una campagna Elettorale Difficile Molto difficile La gente Sostanzialmente Ha già Un animo Mal predisposto Per tutto quello Che ci siamo Detti prima E la caduta Di questo governo Che francamente Diciamocelo Con molta chiarezza Non ci si aspettava Ha contribuito A non creare Le condizioni Per una campagna Elettorale Bella Sensata E produttiva Quello che chiedo I cittadini In questo momento È ovviamente L'esistenza Di un governo Serio Con politiche nazionali Serie Su quelle che sono Secondo me Le tematiche Nevralgiche Che incidono Direttamente Nella vita Del cittadino Penso a fisco Giustizia Politiche Del lavoro E sicurezza Certo C'è il pericolo A stensionismo Lei ritiene Che sia In sostanza Concreta Questa Situazione Di difficoltà Insomma Si nota Uno scollamento Tra i partiti E gli elettori Come riportare Al voto Soprattutto i più giovani Che sono Assenti Mi pare In questa campagna Elettorale Il problema Dell'astensionismo Che anche In questa tornata Incombe Come una spada Di Damocle E si aggira Come un fantasma È un problema serio Ahimè Io ne sono preoccupato E sono convinto Che Ancora una volta Potrebbe esserci Dei picchi notevoli Lo sforzo Che partiti Diciamo Con una Rappresentanza In questo momento E con percentuali Ancora basse Deve fare È proprio Quello Di andare A prendere Il voto E andare A convincere Gli elettori Uno ad uno Cosa che In questo momento I grandi partiti Beneficiari Invece Di questo Stesso modello Invece Non fanno Ecco Se noi riusciamo Ad inserirsi In questo spazio Forse riusciamo Anche Non dico A neutralizzare Ma a ridurre Le paventate Percentuali Di estensionismo Tra l'altro A parte l'assenzionismo C'è una fetta Di elettorato Ancora Che resta indecisa Rispetto alla scelta Da compiere Lei su quali temi Ha concentrato Possiamo dire La sua campagna elettorale Insomma Su quali questioni Si è maggiormente Le grandi questioni Direttore Che mi sono particolarmente A cuore Sono fisco E giustizia È assolutamente Intollerabile Continuare A privilegiare Un modello Tributario Che continui Ad assumere I tratti Di un modello Inquisitorio D'accordo Un modello In cui viggono Una serie di principi Ormai intollerabili Come le presunzioni Che l'ufficio Può muovere E sulle quali Si può muovere All'interno degli accertamenti E poi il sistema Della giustizia Perché vedete La giustizia Non è solo Il sistema giustizia Il sistema giustizia Incide profondamente Sui modelli economici Sia per quanto riguarda La giustizia tributaria Sia per quanto riguarda La giustizia civile Sia per quanto riguarda Quella penale Sono tutti e tre Modelli I cui effetti Di malfunzionamento Si riverberano Sempre sul settore economico Ecco Stando ai sondaggi C'è un vento Favoribile al centro-destra Allora le chiedo Quale sarà il ruolo Di noi moderati Nel nuovo Parlamento E soprattutto Quale sarà il suo impegno Per questo territorio Come dicevamo Delle due province Di Avellino e Salerno Spira un vento Indubbiamente Favorevole Per il centro-destra Che sono convinto Si accinga A governare Per cinque anni Il paese Noi però All'interno Della coalizione Di centro-destra Dopo aver sottoscritto Un programma Di 15 punti chiari E sul quale Quindi Sottoscriviamo Un patto A garanzia Di unità Di intenti Riteniamo Però di dover Rappresentare Una politica Ragionevole Non urlata Raziocinante Moderata Non Per essere ostativi Ai progetti Di governo Ma per poterli Realizzare Con quella Garanzia E con quell'equilibrio Di cui noi Ci facciamo Portavoce All'interno Di questa coalizione Allora per chiudere Questa nostra intervista Qual è il suo appello Agli elettori L'appello agli elettori Che mi sento di fare Il seguente Non immaginate Che la politica Moderata E i politici Moderati Siano persone Per lo più Deboli Remissive Incapaci Di assumere Decisioni E per lo più Dediti al compromesso Di bassa lega Tutt'altro Questa è una visione Che non ci piace Non ci appartiene Noi vogliamo Soltanto Come dire Fare il bene L'interesse Della collettività E a differenza Degli integralisti Della politica Siamo quelli Che in alcuni momenti Delicati Della vita del paese Siamo in grado Con intelligenza Di cedere Quote parte Della nostra Condizione politica Quando questo vuol dire Progresso per tutti Bene Grazie allora Per questa intervista In bocca al lupo Per la sfida elettorale Abbiamo ascoltato Vi ricordo La testimonianza Di Massimiliano Marotta Che è candidato Capolista Con noi moderati Nel collegio Campania 2 Salerno Avellino Per la Camera Dei Deputati Grazie ancora E grazie a quanti Ci hanno seguito Buon proseguimento Con i nostri programmi Arrivederci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti